Ciao a tutti amici Nerazzurri, dopo la trasferta di Genova la squadra è tornata al migliaia e noi ce l'avamo. Vi lascio subito le clip e buona visione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti i nostri social che trovate in descrizione e noi ci vediamo a un prossimo video o una prossima live. Forza l'Inter.